Scoperta nel 1492 l'America, terminato il Medioevo, si avvertì l'esigenza di dare un nuovo ordine all'Europa. Particolare interprete di questa nuova istanza fu l'imperatore Carlo V, il quale legò indissolubilmente il suo nome all'Europa. Ma in seguito vi furono altri importanti eventi fatti di grande rilevanza. Pensiamo all'umanesimo di Erasmo da Rotterdam, al rinascimento, all'illuminismo. In questa puntata di Quea Europa ci occupiamo di alcuni aspetti di queste epoche storiche. Conclusosi con la scoperta dell'America nel 1492, il periodo di dieci secoli di Medioevo, con il cristianesimo fautore di unificazione in Europa, già agli albori dell'età moderna ed in tempi successivi vi furono uomini e si svilupparono correnti di pensiero che segnarono passi ed orientamenti di unificazione nel vecchio continente, al di sopra di ogni confine. Nel 1500 nacque a Gand, in Belgio, Carlo V, destinato a diventare re di Spagna ed imperatore del sacro romano impero. Con lui rivisse l'idea medievale di una unità politica del vecchio continente. Carlo V considerava suo dovere dare un ordine politico all'Europa e anche al nuovo mondo che cominciava a definirsi all'orizzonte. Carlo V, l'imperatore cattolico che aveva nuovamente riunito all'Europa sotto un'unica guida politica, dovette tuttavia affrontare inaspettatamente la divisione religiosa dei suoi domini, cui aprì la strada, lo scisma di Martin Lutero. La appena riconquistata unità dell'Europa veniva nuovamente meno e Carlo V abdicò definitivamente nel 1556. L'umanesimo di Erasmo da Rotterdam, il rinascimento ed infine l'illuminismo portarono a nuove concezioni dell'unità europea. Erasmo pose le basi di un nuovo connettivo intellettuale in Europa. A cavallo fra il 1500 e il 1660, Lugolotto duca di Sully ideò il Grand Seine, progetto per una federazione di stati europei riuniti in una repubblica cristiana. Più tardi, nel 1693, il quacchero William Penn, fondatore della Pennsylvania, lanciò un appello in favore della pace in Europa in seno ad una lega. Fra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo, lo scrittore politico francese abate di Saint Pierre, elaborò un progetto per la pace e l'unità in Europa. Le sue idee verranno ulteriormente elaborate, qualche decennio dopo, da Jean-Jacques Rousseau. Anche nel XIX secolo non mancano pensatori e politici impegnati nel promuovere ideali di pace, fratellanza e unità in Europa. Del principio dell'Europa dei popoli, organizzati su base nazionale, in alternativa all'Europa dei principi, fu Vesillifero Giuseppe Mazzini. All'inizio del XX secolo, fra coloro che hanno primeggiato per lungimiranza e tenacia nell'anticipare l'esigenza di unificazione europea, ricordiamo il conte Richard Kudenow-Kalergi e Aristide Briani. Kudenow-Kalergi, nell'ottobre del 1923, pubblicò a Vienna il libro Pane Europa e subito dopo fondò l'Unione Pane Europea. Aristide Briani, politico francese, fu straordinario promotore di una politica di riconciliazione con la Germania e formulò un progetto per una federazione europea. Molti sono stati dunque, in varie epoche, i fermenti di unità europea. Grandi personaggi dunque, importanti eventi che hanno lasciato forti segni nella storia d'Europa, ma in seguito, nei secoli successivi, vi sono stati altri avvenimenti, altri modi di pensare che hanno influito in termini determinanti sulla concezione stessa di carattere sociale, politico e territoriale dell'Europa. Pensiamo a rafforzarsi di un sentimento nazionale il quale ha dato origine agli Stati nazionali, capitolo di cui ci occuperemo domani nella puntata di Qui Europa. Grazie per la visione!